Coraggio gente, qualcuno ha ordinato l'orchestra sinfonica di Londra? Magari mentre era sbronzo? Sai Presil, voi non avete niente da dire? Ma che ha ordinato quest'orchestra? E poi non ho detto niente di niente. Facci il trattamento. Adesso che facciamo? Sì, stai a trovare una soluzione. Va bene, ci penso io. Va bene. Eh, beh, sì, l'abbiamo ordinata noi. Conoscete Insane in the Brain? Beh, a dire la verità, noi suoniamo musica classica. Ma ci possiamo provare? Questa sì che mi piace. Mitico, la chitarra di quella sta parlando. Eh, anche le mie scarpe stanno parlando. Non preoccuparti, non ti faremo del male. Siamo qui soltanto per divertirci. E pensare, Smithers, che tu hai riso quando ho comprato l'agenzia pre-vendita biglietti. Chi pagherà una commissione del 100% per avere un servizio? Eh, è una politica che assicura un sano connubio tra ricchi e ignoranti, signore. Homer Simpson mi ha sfasciato il maiale. I Cypress Hill mi hanno rubato l'orchestra. E i Sonic Youth stanno rivistando nel mio frigo bar. Piantatela, ragazzi! Su via, signor Frampton, non si mangerà mica tutta questa anguria. Per favore, sto cercando di esibirmi. Faccia pure, noi stiamo qui a sorvegliare il frigo bar.